Abbiamo finalmente attivato gli abbonamenti settimanali e bisettimanali su Spitlist, il primo e unico motore di ricerca delle playlist collaborative Spotify. Ce l'avete chiesto in tanti, finalmente è disponibile. In descrizione trovate il link diretto per andare ad abbonarvi. Una settimana costa 97€, due settimane 147€ e poi ci sono i consueti abbonamenti mensili da 197€ in su mensile, bimensile, poi tre mesi. Ma per chi vuole utilizzare la piattaforma, provare la piattaforma una sola settimana con solo i 97€ potete accedere al motore di ricerca e fare tutte le ricerche che volete, tutte le playlist che vi servono. Potete poi salvarle in un file Excel e scaricare questo file, quindi in una settimana vi potete mettere sotto e cercare tutte le playlist collaborative inerente al vostro genere musicale, al vostro paese. Potete fare ricerche appunto mischiate, potete ricercare tutte le playlist indie in italiano, oppure se cantate in inglese avete tutto il mondo a disposizione, tutti i generi musicali. Le trovate e abbiamo poi fatto degli aggiornamenti. Vengono evidenziate con una bella fiammella rossa tutte le playlist che hanno molti follower, in modo che voi potete salvare soltanto quelle con tantissimi follower, con centinaia e migliaia di follower, in modo poi da inserirvi nelle playlist collaborative e quindi avere il vostro elenco, il vostro file Excel che vi costruite in una settimana, vi mettete sotto e vi tirate giù, vi cercate e quindi scaricate tutte le playlist collaborative e poi quando vi esce il singolo, il primo giorno fondamentale dell'uscita, inserite il vostro singolo in tutte le playlist collaborative che comunque sono playlist create dagli utenti in maniera organica, sono inerenti praticamente al vostro genere musicale perché le avete cercate in base al vostro genere musicale, al vostro paese, voi dovete fare tutte le vostre ricerche, salvare solo quelle con tanti follower e poi inserirvi, avere tante playlist collaborative e quindi avere uno strumento che vi permette di trovare tutte le playlist collaborative che volete, cioè ricerche che vanno in tutto il mondo e ricerche infinite, potete avere le vostre playlist, ok, e Speedlist le trova tutte in una settimana con 97 euro, è una promozione incredibile, infatti valida solo per i 50 posti, la piattaforma abbiamo anche deciso di tenere questo limite anche per i lavoramenti settimanali, quindi i primi artisti già si sono iscritti perché abbiamo poco fa proprio mandato la mail agli iscritti a Speedlist, sono già entrati, quindi se vi interessa avete un singolo in promozione che dovete promuovere le playlist collaborative sono uno strumento fondamentale, bisogna però avere playlist di qualità e solo un motore di ricerca vi può trovare le playlist giuste, inerente al vostro genere musicale, quelle italiane, quelle straniere, andate nei link in descrizione e registratevi, abbonatevi, una settimana 97 euro o 14 giorni 147 euro, se magari volete non avere troppa fretta e lavorare con calma, forse è meglio il B settimanale, comunque trovate tutti i link in descrizione, in descrizione trovate anche la video presentazione, se è la prima volta che praticamente sentite parlare di questo strumento, registratevi, vi arriva il video in cui vi spiego tutto come funziona e poi vi abbonate per una settimana, per due settimane, per un mese, due mesi o tre mesi, questa è la novità di oggi, volevo segnalarvela, mi raccomando, promozione su Spotify fondamentale, il primo giorno, anche per attivare gli algoritmi, avere un elenco di 2, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 playlist collaborative in base al lavoro che voi decidete di dedicare per trovare e creare il vostro elenco, quindi se potete anche fate un abbonamento mensile così andate con calma, però per chi non ha il budget con 97 euro può mettersi sotto una settimana e avere il suo personale archivio, il suo personale elenco specifico per la sua musica è fondamentale e può promuoversi, è fondamentale il primo giorno in cui esce il singolo, essere presenti e inserire il proprio brano in tantissime playlist, vi aiuta anche ad attivare gli algoritmi, abbonatevi, solo 50 posti, fatelo subito, link in descrizione e noi ci vediamo ad un prossimo video, ciao!